La religione è un sistema di credenze, pratiche e valori che riguarda l'umanità, il divino e l'oltremondano. Coinvolge la fede in entità spirituali o divine, rituali, norme morali e un quadro di significato. Le religioni variano ampiamente in tutto il mondo e possono essere politeiste, monoteiste o animiste. Sono spesso associate a testi sacri e luoghi di culto. Le religioni forniscono una guida spirituale, un senso di comunità e spesso influenzano l'etica, la cultura e la politica. Sono una parte significativa della vita umana e hanno modellato la storia e la società in tutto il mondo.